Vi son piaciute le vecchie top di Pokémon? Oddio, non a tutti, insomma, ho anche ricevuto diversi insulti, pure piuttosto pesanti, perché sbagli i nomi, qualcuno mi accusa anche del fatto che dei Pokémon non me ne freghi in realtà niente. Non è assolutamente vero, i Pokémon mi piacciono tantissimo, e allo stesso tempo non me ne frega una mazza. Cioè, possono convivere le due cose insieme, eh? Non è che sono il mio argomento di discussione principale o preferito, ecco, l'avrete capito. Ci son cresciuto, ho una cultura decennale con questo mondo, quindi un pochino di diritto di parlarne ce l'ho, ecco. No? No, vabbè, ma io lo faccio lo stesso, ecco. Quindi benvenuti su WatchMoge Italia per una top ten dei dieci. Stavolta iniziamo ad andare per tipo, e vi giuro che me li passo tutti quanti, tipo vi tormenterò, dei dieci Pokémon di tipo Dark, Buio, o come lo volete chiamare, più fichi di tutti quanti. Non me ne frega niente della forza, guardo soltanto al design. Alla numero dieci abbiamo B-Sharp, che è palese, all'inizio si chiamasse B-Sharp-Mon, poi con un po' di soldi è riuscito a farsi contrabbandare fuori dal ghetto dei Digimon e a cancellare il Mon in fondo al suo nome su tutti i documenti, riuscendo a spacciarsi per qualcun altro. È la cosa meno Pokémon, più Digigormiti, ribelli, Star Wars, Power Rangers, Samurai del 1600 giapponese che si sia mai vista. Di sicuro non è un Pokémon, ma lo stesso non posso certo negare che sia un figone. È a tutta l'aria di chi ti vuole far capire che non c'è un cazzo da ridere. Tutto sempre imbronciato, ricoperto di lame, con cui affetta altri Pokémon, che però non muoiono perché qualcuno pensa ai bambini in questo mondo, però fa la sua porca figura. E alla numero nove, Crocodile, che è un crocodile che fa di nome in pratica Crocodrillo. È rosso, è grosso e se vuoi porta anche gli occhiali da sole. Altro bellissimo tra l'altro che il caimano con gli occhiali da sole di Ash si evolva durante un combattimento in un coccodrillo con gli occhiali da sole e gli stessi occhiali da sole si evolvano con lui triplicando le loro dimensioni perché fanno parte del suo organismo o cosa... Diciamo che Crocodile non punta a vincere un premio originalità che non puoi proprio avere se è la tua migliore idea dopo 47 generazioni e facciamo un grosso coccodrillo rosso! Ma il fatto che sia anche pateticamente standard e non gliene freghi assolutamente una mazza, per me è un punto a favore. Mi piace questa genuinità. E alla numero otto, Marco. È un corvo, mi piacciono i corvi. È nero, mi piace il nero. Il nero in realtà ha una tinta un po' petrolio. Mi piace il nero che in realtà ha una tinta un po' petrolio. È bello e c'è il cappello. Mi piacciono le cose belle, soprattutto se c'hanno il cappello. Non piace nessuno. Ecco, quindi faccio io il tifo per lui e finisco qui. Perché in realtà non ho trovato abbastanza materiale in qualità visiva decente da mostrarvi mettendolo dietro. Ma ecco, insomma, è Marco. È bello e nero e c'è il cappello. Alla numero sette, Absol. Sto sempre a prendere per il culo il design dei Pokémon, anche che mi piacciono, lo sapete, ma qui devo arrendermi. Chi l'ha disegnato è stato un maestro, uno dei cinque Pokémon più eleganti della storia, è evidente. Un altro, tra l'altro, è sempre in questa lista e comunque quattro soccani, gli riescono particolarmente fighi. Glielo concedo. Con la frangetta un po' gotta e sbarazzina da vivi e lascia vivere anche un pochino Fuck the System, devo dire, di quelle che ci piacciono tantissimo, con speculare un corno nero di ossidiana affilatissimo in contrasto Yin e Yang col pelo bianchissimo. Ragazzi, è uno spettacolo. Frega una mazza se è scarso. Ma chi se ne frega proprio. È la numero sei. Houndoom. Allora, già, se tu ti chiami il mastino della sventura, puoi essere anche un chihuahua rosa che mi agola al posto di abbaiare. Ma sarei comunque nella lista dei più fighi e temibili. In più, capita che Houndoom non è che sia esattamente un chihuahua rosa, ma un fottutissimo Doberman luciferino total black con quello spruzzo di cremisi infernale che ti dà quel tocco alla Hile Satan in più con la coda a punta da Belzebulle, corna ricurvo, un teschio al posto del medaglione e i bracciali di osse metallo da punk rocker sulle zai. E sputa le fiamme. Perché non l'ho messo alla numero uno, scusate, ma non lo so neanche in effetti. È la numero cinque. Weevail. Allora, un po' di onore anche per Sneasel, che è uno dei miei Pokémon preferiti, ma l'evoluzione è quanto di più fico, veramente. Sta mezza donno, lina bipede, incazzatissima col mondo. È una donno, la è davvero in pratica. Quindi possiamo dire che è un Linun anti-establishment che ci ha creduto fino in fondo, scappando di casa a 16 anni e unendosi a una band emo core con influence giapponesi, visibili nello splendido ventaglio aperto a coroncina sulla testa. Design magnifico. Sguardo di chi ne è consapevole. Se qualcuno mi spiegasse perché è anche tipo ghiaccio, che non si capisce per quel minchia di motivo, mi farebbe un piacere. E alla numero 4, Tyranitar. Vabbè, qui si vede la differenza tra tamarroni senza speranza che se ne usciranno dicendo Ah, Aggron è bellissimo per davvero! Che gente colta è in possesso di una certa educazione che ghignerà sorseggiando il suo tè e pensando in silenzio invece a Tyranitar. Ora non metto in dubbio che Aggron nella sua manifesta cafonaggine sia effettivamente fico e che Tyranitar sia pure lui coattissimo. Ma non c'è storia. Il colore, il corpo, le lastre, la panza colorata, il sorrisetto alla Godzilla, la versione mega che per non saperne leggere né scrivere semplicemente gli aggiungono più spunzoni perché fan culo tutto. È Tyranitar. E alla numero 3, Zoroark. Se devo trovare un pregio nella quinta gen, è sto qui. È spumosissimo, è un volpone illusionista con una chioma mezza crestino, mezza codone fiammeggiante nero rosso legato alla Ronin. È un design intricatissimo, c'ha pure il rossetto che fa molto d'archettone, no? Con questo stile insomma ispiratissimo alla figura del Kitsune. l'ho sempre trovato una specie di Vulpix appassionato di grange su due zampe. Snello, bello, così forte che fa sempre un macello. Zoroark, anche sto nome da divinità malvagia sumera che non c'entra una mazza, devo dire, però fa molto bad boy, no? E quindi, ok, è la numero 2, Umbreon. Ed ecco qui, il più elegante di sempre. Anche uno per cui ho sempre avuto una certa predilezione, tutti a fare eh, Vaporeon, eh, Flareon, gne, gne, gne. Beh, io invece Espion e Figumbreon tutta la vita, il vero Pokémon per bimbi alternativi. C'era la distinzione, no, tra i normaloni a cui piacevano Charmander e Blastoise e Sparare le Fiamme e quelli a cui piacevano Girafarig, Xatu e Umbreon. Ecco, ecco tutto. L'aspetto, non sono certo io che devo starvi a spiegare quanto sia badass ma con gran classe. Total Black, anche lui, sopraffino con gli anelli dorati. Un misto Armani e Controcultura. Nulla da aggiungere. Cioè, questo è stile. E alla numero 1, Darkrai, che era finito nella lista dei più forti ma adesso anche in quella dei più fichi perché non è che faccia male. È un grosso spirito nipponico dai bordi seghettati ed ha il cappello fumogeno in un terzetto di colori strabiliante nero peci rosso carminio e quel misto tra acqua marina e blu persia sul volto di forma poi impeccabilmente geometrica se vista da una certa angolazione che ha una notevole triangularità verticale davvero soddisfacente. Non so nemmeno cosa minchia significhi quello che sto dicendo. Ma penso ci siamo capiti, no? No? Beh sì, no, ok, beh, è bello, balla, anche un po' bullo, birillo, sbrallo, ballo, ballo.